Mamma mia l'Italia, Grifo, Mancini, si vince e si convince, ora sì che gli azzurri sono veramente pronti per Qatar 2022. Anzi no, anche se alla fine poi nulla è cambiato, tutto è rimasto identico e se fossimo andati in Qatar tutto sarebbe rimasto uguale. Questo ci fa capire molto, l'organigramma da gravina, quindi dalla FIGC al CT non è cambiato di niente. E questo secondo me spiega anche molte cose, ma al di là di questa piccola polemica d'apertura, torniamo più o meno seri e andiamo a vedere questa partita. Allora, partita secondo me discreta, il risultato inganna anche perché l'Albania è stata fino alla fine in partita, fino al 3-1 equilibratissima, molto combattuta. Poi segniamo quindi la spallata al match, la diamo, però loro restano sempre l'inaguato e Meret fa anche un'altra bella parata per evitare che comunque nel finale la partita ridiventasse incandescente. L'Italia comunque unica grande nota positiva, Grifo, Vincenzo Grifo che fa un'altra ottima partita, che torna a rifare bene anche in nazionale. E ora vorrei vedere da parte sua, e non dipende però da lui, un salto di qualità, nel senso vorrei vedere Grifo con l'Italia in partite più serie, più impegnative. Vorrei vedere Grifo che so quando sarà in Italia e Inghilterra. Vorrei vedere perché comunque credo che se lo sia ormai guadagnato questo posto da esterno come minimo di riserva ogni volta che gioca, anche se contro squadrette gioca bene. Quindi credo che abbia, che si abbia il dovere, più che il dovere il diritto, Mancini ha il dovere e Grifo ha il diritto di essere schierato comunque contro squadre più forti. Perché se l'è meritato, perché anche oggi gioca bene in una gara che era insidiosa e che così facile come si è visto non era. Andiamo sotto, bene anche Scalvini, mi è piaciuto. E qua a proposito di Scalvini e del gol loro, secondo me colpa di Scalvini non è al massimo, se proprio vogliamo darla a qualcuno, ma secondo me non è neanche sua, è di Bonucci. Bene anche di Marco, bene. Di Lorenzo, secondo me comunque, l'unico ecco grande cambiamento che c'è stato rispetto all'europeo e rispetto alle qualificazioni per il mondiale è stato appunto il modulo. Non più 4-3-3 ma 3-4-3 ed è questo un modulo più congeniale, ecco se così possiamo dirla, ai nostri giocatori. Perché comunque di Marco così lo esalti. Di Marco messo da braccetto, a me non diceva niente, messo da esterno come anche Inzaghi dopo che Mancini l'ha fatto ultimamente, a ottobre l'ha messo, è molto meglio. Di Lorenzo che è bravo ad attaccare e che gioca soprattutto a 4, secondo me a 3, sa dire la sua anche fase offensiva, infatti oggi col gol si è visto. E poi che cos'altro? Adesso comunque arriva il momento duro per noi, perché fino a mo' si è giocato, e vabbè l'Italia non va al mondiale, i meme, le canzoncine, ora però si arriva il momento brutto. Perché adesso, che succede? Che noi guardiamo gli altri che giocano, che noi guardiamo l'atmosfera, anche se poi è un mondiale abbastanza brutto secondo me, per tanti motivi, però guardiamo l'atmosfera e noi stiamo qua a casa per la seconda volta di fila. Quindi adesso arriva il momento veramente brutto. Fino a quando non lo metabolizzi, pare essere una cosa così in futuro, sì non ci andiamo, quando comincia e vedi che non ci siamo, è lì ti sale un po' la tristezza. Io comunque credo di avervi detto tutto, adesso testa alla prossima, testa all'Austria, testa comunque ad un cammino che si prospetta complicato per ricostruire questa Italia. Siamo ancora in alto mare, però comunque si è deciso, io non sono mai stato d'accordo, ma si è deciso di ripartire con Mancini. E allora, fiducia al Mancio e speriamo che comunque per l'Europeo di Germania si possa tornare a creare un gruppo come quello che si era creato all'Europeo d'Europa. Ragazzi che vi devo dire, adesso non ci resta comunque che sperare che Mancini esattamente come dopo il crollo di Ventura e la parentesi di Di Biaggio riesca a ricompattare il gruppo e a riportarlo in alto. Anche lì l'avvio con Mancini non fu facile, quindi speriamo che comunque ci possa essere questa ripetizione della storia. Detto ciò mi raccomando, iscrivetevi, like e commento qui sotto e noi ci vediamo domani. Ciao e sempre Forza Italia, anche se ho la felpa, me ne so accorto mo' dell'Argentina. Ciao!